Dovevamo trovare la vittoria soprattutto per il morale, per fare gruppo e prepararci per il campionato. Ci siamo riusciti, possiamo ancora migliorare tanto secondo me, però siamo sulla strada giusta. No, beh, indemoniato, ci teniamo a far bene tutti quanti e a parte i gol, secondo me abbiamo fatto una bella prestazione, quello è importante. Ma sicuramente un po' la condizione, stiamo iniziando a stare un po' meglio e poi più avanti e più ci conosciamo, quindi adesso speriamo ancora di migliorare e poi comunque cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Oggi credo che in buona parte l'abbiamo fatto. Sì, è un buon livello, si può sempre migliorare, poi il campionato è un'altra cosa, però dai, abbiamo fatto un buon test adesso, dobbiamo prepararci bene per il campionato. Non è proprio favorevole, però tanto che vuoi fare, bisogna prima o poi li devi incontrare tutti, quindi forse l'unica cosa negativa è la pausa seconda giornata, non ci voleva, però l'accettiamo e andiamo avanti. Ma secondo me le prime partite che incontri, incontri, perché è un po' un'incognita, come hai detto te, quindi anche incontrare il Vicenza, che è una squadra un po' più blasonata del Mestre, secondo me può andar bene, perché comunque anche loro sono all'inizio e dobbiamo essere bravi a coglierli impreparati, ma poi comunque sono tutte dure le partite.